Non si fermano le indagini della polizia sul commercio abusivo e la merce contraffatta. A riaccendere i riflettori su un fenomeno che colpisce anche il capologo Peligno è stata l'operazione condotta dalla squadra anticrimine del locale commissariato che ha sequestrato 161 capi di abbigliamento dal valore di 20.000 euro circa a un commerciante di origine napoletana che aveva allestito un market di abiti contraffatti in un appartamento alle viale della stazione. Merce che sembrava pulita e ordinata, tant'è che sono poche le vittime che sono cadute nel tranello e che hanno quindi beneficiato dei prodotti messi in vendita dal commerciante. In queste ore la squadra anticrimine sta cercando di risalire potenziali acquirenti basandosi sulle segnalazioni arrivate in commissariato ma anche sull'attività di controllo del territorio che ha permesso agli agenti di scoprire il via vai di persone che entravano in quell'appartamento senza una particolare ragione. La polizia vuole andare fino in fondo e sta ascoltando in queste ore alcuni acquirenti per ottenere altri elementi ai fini dell'indagine che rilancia l'allarme sul commercio abusivo. L'uomo, napoletano di 41 anni, è stato nel frattempo denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria per i reati di contraffazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione e nei suoi confronti è stato avviato il procedimento di erogazione da parte del questore dell'Aquila della misura del foglio di via obbligatorio dal territorio di Sulmona. Nel corso dell'attività investigativa, gli uomini dell'anticrimine coordinati sul posto dall'ispettore superiore Daniele Lerario hanno rinvenuto circa 200 capi di abbigliamento, scarpe e accessori sia da uomo che da donna di note marche e risultati contraffatti. Recuperate anche diverse etichette, pronte per essere apposta ai capi. La merce era conservata in maniera ordinata su scaffali d'esposizione ed era anche presente un grande specchio, quindi un vero e proprio negozio di abbigliamento dove gli acquirenti, mediante passaparola, si recavano presumibilmente nei giorni prestabiliti.